Vediamo il mio mare cosa ha pubblicato AIA! AIA! Ho bisogno di AIA! Ok? Chi è questa troia? Chi è? Chi è? Voglio il nome, il cognome, l'inizio e anche il numero civico, attenzione Qui le cose si fanno serie Chi cazzo è? Chi 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 cazzo è? Allora, allora, cosa ha in più di me questa? Perché non posso essere io al posto suo? Che cosa ha in più di me? Cosa? Cosa? Le tette? Non ho le tette perché le mie è un po' Il culo? Non ha il culo questa qui, cos'è? Culo quello? Non è culo quindi non ha il culo Cos'è? Soltanto una troia può essere per stare con lui Tu sei troppo buona per stare con una troia Ci dovrebbe essere io al posto suo Ma no, no Io lo ammazzo Qui si fanno le dovute cose adesso Le ricerche per vedere chi è E poi si procede ad ucciderlo, ok? Ok? Ah, 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 stiamo cari Stai calma No, ah, non posso stare calma, ok? No, non posso Non chiedermi, non chiedermi di stare calma Perché non posso, non posso, non posso Non posso Qui si deve uccidere la troietta Non posso, non posso, non posso